ma buongiorno buongiorno ma nonno dov'è in after come in after che vuoi lì in after ma stai in after o no ma stai in after davvero guarda stai in after mamma mia vai vai ma come mai stai in after ma che cazzo stai a dire si quando trovai a renaldo di là che l'ha preso io stai a dire la lepre di cojonca non sape niente vuoi capire quel che dice sciacca il cojoni ma che sia di una cosa importante no non mi dice niente che mi fai capire niente ti stai a parare lo spondello se l'hai preso tu ma tu vedi gli affanculo vedete sempre come fare un pennello semplice allora ci devi avere i capelli lunghi da pennello perché devono essere lunghi se no il pennello con che lo fai con la pronte no e poi fai così gentilmente fai pennello perché il pennello è una cosa gentile che piace basta che te levi di cojoni ti posso fare un pennello ma da il cazzo fai il pennello siamo spostati Grazie.